No, no, quanto masso? 3.000 euro per ogni anno sbagliato? Vediamo chi è il traguardo sconosciuto! Oh, Laura Gioia Senzacca, attenzione! E' un bel portamento, un bel coltè. Io la farei... alzo un po' le braccia, così. Farai a non sfogliare, però, eh? No, no, alzo un po' i capelli, il collo, così. Deve banare bum bum, la signora. Bum bum? Eh, se non so se abbiamo bum bum. Signora, lei ha mai messo le ucrandine nel freezer? No! Ah, bum bum bum! Vedi? Vedi? Eeeh! Eeeh! Però... Hai capito? Ah! Hai capito? Quanti anni... hai visto come... Brava, gira, gira... Gire, ti ho visto che c'è un tatuaggio... Ah, no, è al microfono. Eh, sì, un tatuaggio. Eh, signora mia, poi ho visto che veramente... Cioè, lei bum 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 bum, eh? Bravissima. Quanti anni ha bum bum bum? È simpatica. Eh, sì, è... Un'ipotesi. Sulla cinquantina... Segno? Cinquanta? Cinquanta... Sì, segniamo cinquanta. Ok, cinquanta. Quanta bene, no, no. Inizio. Bum 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 bum. Aspetta, le mani, le mani... No, le mani davanti. Bum 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 bum. Allora, l'indizio... Tra cronaca, gossip e zoom. Bum 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 bum. Voglio vedere l'attivicino. Che dite? Gossip. Gossip? Ti intendi un po' di gossip? No. Allora, allora, quando lasceva... No, io l'ho fatta. Io non sono cattiva, io mi riferisco. Quando lasceva Laura Gioia, senza H, attenzione, in quell'anno c'era questo pettegolezzo. Vediamo se... Beh, insomma, è cronaca rosa, perché Sofia Loren aveva ventitri anni e si sposa in gran segreto in Messico il quarantacinquenne Carlo Ponti. Sofia Loren aveva ventitri anni quando nasceva lei. Ah, ok. Quando nasceva Laura Gioia, Sofia Loren aveva ventitri anni. Perché Sofia Loren ha... No, allora, Sofia Loren ha... Ben importante, c'ha ottantatre anni, Sofia Loren. Ottantatre, ottantquattro. Attenzione. Aspetta, attenta. Attenzione. Quanti secondi? Più di venti, tre. 10. 9. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. No, scusa, no, abbiamo detto cinquantanove. Allora, Sofia Loren ha ottantatre anni circa, anche se ne dimostra venti di meno. Lei aveva ventitre anni, quindi ventitré più sessanta... Era sessanta... Andavi bene in matematica. Ha ottantatre, c'ha cinquantanove e sessant'anni. Io non so brava a fare calcoli, ma cinquantanove... Ho visto, come me, Laura Gioia, hai cinquantasette anni? No, è cinquantanove. Sì o no? Ah. Anche, guardalo che... 1,60, 1,23 va... 70, 83. No. Ma no. Guardate di quanto siete sbagliati. Guardate, guardate. Scusate, Sofia Loren. Io fa mica con le qualità della loro, guardate. 83 anni. Guarda, un anno, 3.000, due anni, 6.000, tre anni, 9.000, quattro anni, 12.000, 5 anni, ragazzi, qui è una tragedia, 18.000 euro mi è costata. 83, scusami eh. Gioia, dignelo te quanti anni hai, sapete quanti anni ha? Lo dico, 63. 63, più di un anno. Io dico 60, 59, 60. Però se la Loren aveva 23 anni, la Loren ha 86 anni, comunque cosa fai Laura Gioia? Mi sei piaciuta col boom 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 boom. Mi piace la danza sensuale. Ti piace la danza sensuale? Ho un canale YouTube dove pubblico video, dove pubblico video comici, dedicato alle donne, format. Senti ma, quanti, quanti followers hai? 3.000. 3.000, devi chiedersi? Tu quanti followers hai, Malenia? Eh eh? Quanti followers hai? Un milione qua. Vedi, un milione qua. Come si fa? Come si fa? Dovrei avere questo? Tu quanti ne hai? Io impianto un po' poca roba così, centinaia di migliaia. Ma se ci mettiamo insieme ne avremo 10, 10. Se ci mettiamo insieme possiamo fare boom 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 dalla mattina alla sera, non è il senso che non do altro. Perchè scherzi, dopo te lo faccio fare. No, certamente! Senti, Malenia, puoi dare un consiglio a Laura Gioia per aumentare i followers? Che deve fare? Eh, guarda, devi stare, rispondere, condividere, mettere gli altri tal giusti. Per esempio, quando se fai un post che diventa virale, una cosa che tu chiede, dipende. Dipende, non ti ha detto niente praticamente. Grazie per essere con noi, Laura Gioia. E' un momento molto. Grazie a tutti, ciao, 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 ciao.